I figli, genitori, fratelli. Se perdi un incontro o se Dio non voglia, muori. Persone che sentono la tua mancanza o che ti cercano complicano gli affari. State salendo? Non adesso, Nigel. Io non uccido. Spazza ossa, fai sanguinare. Devi intrattenerli, basta questo. Zero uccisi. Come può un uomo che non sa uccidere su richiesta, morire su richiesta? Siamo influenti. Lui cadrà al terzo. Una chiamata d'emergenza ci ha fornito l'indirizzo che cercavamo. Al nostro arrivo erano tutti morti, tutti tranne uno. Per favore, fermo! Sono l'ispettore capo Katrin Keaton e ora sarò io a condurre l'interrogatorio. Un furioso e urlante colonnello Vaughn verrà a prendere Brody tra esattamente 60 minuti. Non vengo pagato abbastanza per questo. Le pistole le sento sussurrare. Vuoi sapere cosa stanno dicendo adesso? Stai parlando con una pistola, fatti aiutare. Sono fattuto. Non intendevo letteralmente. Beh, non supererà la mia squadra della morte solo con un dildo e un sorriso. Ha appena superato una squadra della morte con un dildo e un sorriso. Touche. Questo è il mio mondo. Serena! Sei stato solo tu. Serena! Ciao, splendore. E Brigante. Inserere! Un favore! followup! UZ! UZ! Un favore! C'è? Grazie a tutti